Ciao a tutti ragazzi, qui è Monta e insieme a me oggi c'è... Oggiiii! Non mi interessa, continua! Grego! Io! E siamo qui insieme per ricominciare le attività dei The Knows Gamers Ma io non siamo nemmeno... Oh! Parlo io! Io! No, parlo io! Io! Oh oh! Almeno non riusciamo a arrivare alla motivazione perché siamo fk, già si sa, basta direte le solite... Le solite... Le solite... Le solite... Toppate! C'è abbiamo le palleri piene di cazzate allora... Che cazzo sto dicendo? Non lo so... Comunque questo è un nuovo video dopo due mesi per riprendere attività dei The Knows Gamers sul mio canale... Che diventerà quello ufficiale... Giusto vedremo? E non lo so nemmeno... E non lo so nemmeno... Colpo di scena! Tadà! 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 Vabbè.. Tadà! 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 Noi, volevo la fata... Tadà! Tad beh! Tadà! 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 Allora ce ne vuoi parlare oppure stiamo... Allora parliamo allora... Allora Black Ops 2 è il nono Call of Duty Ormai non finiscono più Ed è molto bello Ed è molto bello Fine Dicendo Parliamo Che principi che lo vendono... Che lo vendono è molto... Bello Call of Duty non si concentra sulla campagna Perchè se voi fate... Anzi questo qui devo dire che la campagna è stata cercata di dare qualche novità Anche se è sempre naturalità Cof Cof Dai a me è piaciuta dire pirotto... C'è cattivo... No è uguale... Tutte le campagne sono uguali C'è un cattivo... Tu devi uccidere il cattivo Il cattivo scappa Poi lo ritrovi Poi scappa di nuovo Poi forse muore Non è morto E poi alla fine non lo uccidi Tutto è così insomma Vieni se lo uccidiamo Non è andato E questo ve lo lasceremo a voi se avete fatto la campagna o... O siamo noi in ritarda E siete già diventati con la barba bianca Comunque Greco Ma la stessa di zombie Allora... Zombie si divide in 3 mappe 4 per chi ha Newtown Vero Viso E no iiii Du 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 Allora... Eeeh... Le mappe singolarmente non hanno qualcosa di speciale Cioè sono belline Si esatto sono piccole sono Sono pennino Eeeh... Si... Una mappa in particolare che le unisce tutte in pratica tranne... Esatto... Dove sei in un autobus con controllore Non biglietto non salve Eeeh... 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 Vabbè magari poi faremo un gameplay di transit Visto che ha molti misteri. Infatti... Il gameplay di questa mappa si concentra su svelare... E perchè ci sono gli zombie credo Non lo so? con anche la partecipazione di altri o di un altro vedremo allora non è cambiato un cazzo anzi no 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 mettiamo la censura non è cambiato un VIP vabbè no tranne una modalità postazione che è però uguale a QG quindi non è cambiato un cazzo ma c'è anche QG esatto non ha senso dai un po' è rivoluzionato dai no è uguale dai le ricompense sono più epiche le ricompense sono sempre più epiche ah si infatti le ricompense sono più futuristiche l'elicotterino che lancia a mano figata la fai a mano viso lo sciame hai cambiato una cosa Greco le frasi del commentatore Greco il commentatore tra virgolette che sono più epiche tipo pagatevi lo stipendio non sono una roba simile l'italia e la lui sono più epiche è il commentatore ok allora parlo solo io bella c'è qua monta e oggi non sono con nessuno e questa è una partita 24 diciamo sono detto a me c'è squadre che ho già detto però fa lo stesso è già dove c'è una dove c'è una penzillina da parte da qui ah no il bel expression il colmo è che stiamo facendo inizio dal commentario alla fine del video è una cosa molto sexy è sexy è sexy quindi se voglio posso finire il video dicendo che stiamo cominciando vero? esatto perché non lo facciamo tra poco e quindi no che cazzo di greco con monta yeee e questo è un nuovo video su black ops 2 dove siamo appena tornati da due mesi e ci vediamo al prossimo video ciao commentare molto bello ciao